Io dico sempre che i giocatori importanti sono quelli che stanno lì, parlano e insegno agli altri quello che fanno. Adesso dal 27 dicembre si sta allenando con noi, anche perché viene da un infortunio che ha avuto l'ultima partita in India, che l'ha avuta, mi sembra, i primi dicembre. E soltanto l'allenarsi con noi, io vi posso dire che la qualità degli allenamenti è aumentata. Noi diciamo sempre che siamo dei sognatori per natura, non ci piace sognare perché conquistiamo tutti un lavoro con tanto orgoglio e con tanta passione. Ringrazio Emanuele per quello che ha fatto per noi, per averci regalato un qualcosa che veramente neanche io stentavo a crederci che se sarebbe alla fine realizzata. E credo che questa roba ci dà una carica, a noi ci dà una carica, no Emanuele, a noi ce la dà, a noi per essere all'altezza del regalo che ci ha fatto. Sono contentissimo, anche se poi col cuore non mi sono mai spostato. Ce la metterò tutta per dare una mano alla squadra, all'allenatore, alla società, per far sì che possiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza il prima possibile. Era già da un po' che mi allenavo con la squadra, aspettavo soltanto un problema di transfert dall'India, è arrivato, quindi adesso sono a pieno regime con la squadra, quindi già conoscevo quasi a tutti, se non a tutti. Sono a disposizione, il ministro poi deciderà a quale ruolo farmi giocare, però io sono un centrocampista, quindi penso che giocherò in quella posizione. Fino al 93esimo vincevamo e poi ci hanno pareggiato e quindi c'è un grandissimo rammarico, perché comunque sarebbe stata una vittoria importante, sia per la classifica, ma anche e soprattutto per il morale, perché comunque vincere aiuta a vincere. Una bella emozione, un po' sembra strano, ma comunque è sempre un'emozione giocare per la prima volta davanti alla propria città mi rende orgoglioso. Ho giocato per tante squadre, ma giocare per la propria città è tutt'altra cosa.